Siamo backstage da Eichner, siamo qui con Franco Curletto. Ciao Franco. Ciao a tutti. Tu hai fatto il hair look per questa sfilata, lo puoi spiegare? Beh, direi un mood assolutamente molto interessante perché vedi che abbiamo questo remake, un po' di anni venti, questa onda che poi verrà ovviamente sciolta e poi con questa contaminazione che può ricordare un po' gli anni settanta, perché verrà poi crespata, spettinata, un look estremamente moderno, sofisticato, ma anche gestibile nel quotidiano. Cosa si può fare? Beh, le onde o uno le ha spontanee oppure si vada ovviamente dal parrucchiere che sa farle. Ma io voglio sapere, step by step, posto per posto quello che hai fatto? Questo è un lavoro che si fa a mano, quindi si lavora con il pettine, quindi si toglie, cioè si fa, si deve dare l'impronta così, poi si mettono queste pinze che servono per bloccare e soprattutto per poter asciugare e dare un effetto statico alla gioca. Sotto viene messa sempre una schiuma, in questo caso una schiuma mousse, un pochino più forte, e poi mettiamo un altro prodotto invece, sempre una mousse, ma in questo caso spray, per dare un movimento sempre di texture comunque consistente. Questo molto spettinato, a contrasto di questo è estremamente sofisticato. direi che è molto divertente. Bellissimo, grazie Franco. Grazie a te, grazie a te. Grazie.